Tra i relatori del seminario svoltosi presso la Camera di Commercio di Cosenza, promosso insieme a Promos Italia, incontro che poi si è tenuto a Salerno, incentrato alla individuazione degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, una maggiore spinta alla digitalizzazione per continuare a presidiare i mercati tradizionalmente legati al nostro export e per intercettare nuove opportunità in economia, maggior potenziale di sviluppo nella consapevolezza che i prodotti legati al territorio e alla cultura del nostro paese fanno del Made in Italy un marchio unico e apprezzato al mondo. C'è stato anche Federico Rambini, editorialista del Corriere della Sera e saggista, che ha affrontato i temi geoeconomici che stanno influenzando il mondo, come per esempio la guerra in Ucraina. È un panorama a tinte fosche, al tempo stesso ci impone di studiare geopolitica, questo è un tema che ormai è diventato obbligatorio per la classe dirigente economica, non solo come un tempo le grandi multinazionali, ma anche le imprese medio-piccole radicate sul territorio devono capire dove sta andando il mondo per fare le scelte sul futuro. Uno degli elementi interessanti è che questo mondo sta andando anche verso il Mediterraneo, cioè lo shock geopolitico della guerra in Ucraina fa sì che i rapporti con un gigante come la Russia siano diventati problematici se non addirittura impossibili e abbiamo visto concretamente, quando dico Mediterraneo, un presidente del Consiglio italiano andare di volta in volta in Algeria, in Libia, in Egitto, in Israele a cercare di riorientare la nostra vocazione e questo è interessante per le regioni più spiccatamente proiettate sul Mediterraneo. In questo scenario il gap infrastrutturale della Calabria potrebbe essere recuperato accelerando nella digitalizzazione. È vero che il digitale ha meno problemi sia di costruzione fisica sia anche di impatto ambientale, quindi sì, in un certo senso chi è un po' più indietro sulle infrastrutture fisiche può compensare accelerando il passo sulle infrastrutture digitali che sono altrettanto importanti se non addirittura di più.